bene buonasera cari amici recensione di prei questo film che veramente è uscito allora dovete sapere che era il 1990 io avevo 10 11 anni e una sera su italia 1 trasmisero predator da quella sera lì fu amore a prima vista fondamentalmente riuscì a registrarlo con il vecchio video 2000 e fu uno dei film che che vidi più di tutti quell'estate lì ricordo che fecero una serie di trasmissioni su italia 1 dedicate ai film di schwarzenegger e questo predator insieme a commando insieme a terminator insieme a conan furono tra i miei film preferiti ma torniamo a prei uscito per disney plus e ulu e voglio parlarne un attimo ho letto alcune alcuni alcuni commenti dagli utenti che l'hanno visualizzato che l'hanno visto per primo praticamente 98 persone su 100 l'hanno giudicato un ottimo film da tutti i punti di vista un grandissimo film sono contento di questa di questa di questo responso io la penso esattamente allo stesso modo fondamentalmente a me sono piaciuti tutti i film di predator sono sempre piaciuti tutti se proprio proprio devo dire uno che mi è piaciuto di meno è quello alien versus predator 2 quello è quello che mi è piaciuto di meno ma voglio dire anche il primo alien vs predator era molto bello era molto molto bello e le caratteristiche principali dei film di predator erano sono sempre state rispettate una certa lealtà dei personaggi una certa genialità nel finale richiami di qua e richiami di là e quindi io ero sempre molto contento anche in questo caso sono stato molto molto contento di vedere che la protagonista è una grandissima attrice una grandissima protagonista e devo subito dire che questo film è un film di quelli femministi perché la storia è quella di questa ragazza della tribù comanche che vede il suo destino a raccogliere le erbe e a fare medicamenti in pratica sarebbe una specie di infermiera ma è la più brava infermiera quindi sarebbe la dottoressa della tribù ma questo a lei non basta perché vuole vuole dimostrare di sapere cacciare perché pensa perché perché gli altri pensano che lei non sia in grado di farlo quindi fondamentalmente è una specie di prima suffragetta della storia questo ovviamente me la rende molto mi rende la storia molto molto simpatica e la protagonista tira fuori le palle un giorno piuttosto di andare a raccogliere erbe ancora si rompe le palle decide proprio in mezzi termini non voglio non voglio escludere mezzi termini questa recensione e decide di andare a esercitarsi a cacciare da sola perché lei è già da qualche giorno che vede dei segnali e vede delle cose strane attorno a lei che le fanno pensare che in giro c'è qualcosa che non va c'è qualcuno di diverso non è un animale non è una tigre non è un orso mentre invece tutti i componenti della sua tribù sono intenti a cacciare l'unica cosa che riescono a vedere cioè il il la tigre e oppure l'orso lei invece punta a qualcosa di più grande per la sua cattamia che è praticamente la grande caccia praticamente la caccia che la eleva a capo guerriera o qualcosa del genere insomma il fratello il fratello è un fratello molto onesto la rispetta io mi aspettavo invece che venisse trattata molto peggio visto il patriarcato imperante in questa società nella società passata comunque il fratello la rispetta un po meno i compagni del fratello e i compagni di tribù maschi comunque lei viene rispettata in ogni caso anche perché è l'unica praticamente dottoressa del gruppo da qui potrebbero iniziare degli spoiler allora io ho ammirato tantissimo il fatto che si vede il predator appunto e le polversi e imparare a cacciare dal dalla base della catena alimentare cioè dalla formica al topo al serpente alla tigre al lupo al tubo al coniglio alla tigre poi all'orso quindi il predator si misura prima con tutte queste creature in crescendo per poi arrivare all'umano alla fine e l'ho trovata una cosa eccezionale altra cosa eccezionale è il film che ha un taglio quasi documentaristico nel senso che la natura è la parte principale dell'ambiente di questo film la natura le spazi aperti le grandi pianure gli alberi le montagne gli stagni i ruscelli i laghi l'acqua il fango le sterpaglie le erbe fantastico un film un film di questo tipo mi ricorda sempre molto conan il barbaro il primo le fattezze del predator ho letto che il regista ha detto il nostro predator è quello con la proporzione faccia corpo migliore perché la nostra faccia è un po più piccola invece gli altri avevano la faccia un po più grande mi è sembrata strana questa questa dichiarazione forse per schermarsi del fatto che il casco del predator questa volta non è in metallo ma è in una specie di osso che lo rende una specie di di teschio di teschio di vitello a guardarlo questo predator qui è un predator un po strano diverso rispetto agli altri ai quali eravamo abituati quindi c'è questo casco che sembra uno è un osso e sembra appunto un teschio e ha la faccia più 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 stretta se devo trovare proprio qualcosa che non mi è piaciuto sono le mani del predator che sembrano degli dei salsicciotti dei salsicciotti grossi mentre invece le mani di tutti gli altri predator erano molto molto meglio avevano questa questo rivestimento squamoso da rettile con le unghie e sembra ed erano delle mani anche umane insomma avevano delle dita belle invece questo predator qui si vede che che ha delle dita rossastre grosse come dei salsicciotti che diventano proprio grossi verso la fine queste scelte queste scelte strane non le ho capite bene non le ho capite bene come non ho capito bene per niente il fatto che questo film allora ha per me un difetto grande come una casa l'unico difetto grande come una casa in un film capolavoro in un film da predator bellissimo che si va a incastonare tra i primi bad taste.it l'ha messo al terzo posto o al secondo posto tenendo il primo predator ovviamente e il secondo predator tra i primi classificati io tra l'altro i primi due li tengo praticamente fondamentalmente a pari merito perché quando uscì il primo vabbè uscì il secondo cioè quando uscì il primo e vedemmo subito i miei amici alle medie vedemmo il trailer del secondo eravamo tutti esaltati di vedere il predator nelle nella città e immaginavamo di fare altri sequel di predator ognuno in un posto diverso nel deserto nello spazio in altri tutti immaginavamo noi ragazzi delle medie di fare un predator per ogni per ogni per ogni ambiente che ci poteva essere e e quindi questo predator qui va nel terzo posto insomma comunque a pari merito comunque fondamentalmente l'unica cosa che appunto ha è difetto come una casa che non solo non ha la colonna sonora dei primi film la colonna sonora originale ma non ha proprio colonna sonora questo non ha colonna sonora ha dei rumori di tribalismo dei 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 groove tribali qualche nota di archi di di violoncello e fondamentalmente nient'altro che mi fa pensare mi fa pensare se penso a con anche che ha quattro dialoghi messi in croce anche preia quattro dialoghi messi in croce mi viene da pensare da domandare al regista mi viene da domandare ma chi è che te l'ha fatto permettere di pubblicare così c'è chi che ti ha permesso di pubblicarlo così no senza musica incredibile incredibile ci avrei speso un po più di tempo ci avrei speso un po di tempo avrei chiamato qualcuno che che proponesse qualcosa di più che quattro nota è messa in croce di 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 violoncello e di avrei chiamato qualcuno che sapesse fare magari avrei chiamato anche max cavallera dei sepultura dei soulfly che non fa altro da vent'anni che fare musiche di tribalismo e in estate con levi metal sarebbe stata una figata immaginate max cavallera che fa le colonna sonora di predator cioè chi meglio di lui chi meglio del bon marley del metal che ha vent'anni e fa dischi sul tribalismo max cavallera però i quelli che hanno fatto questo film non hanno non ci hanno pensato non hanno pensato che c'era max cavallera che era da due anni che era a casa per il covid a fare no per il covid per per la quarantena a fare a fare la colonna sonora di questa cosa qui bene detto questo il film è fantastico andatelo a vedere e vi auguro buona serata a tutti